Quali sono le linee strategiche di questo rendiconto di bilancio? Innanzitutto, fine marzo, primi di aprile, non è mai capitato di approvare il rendiconto di questo ente, quindi nella storia. Quindi innanzitutto un ringraziamento al personale che ha lavorato in maniera energica in tutti questi mesi e devo dire perché eravamo abbastanza convinti che l'azione messa in campo era un'azione seria, strutturale e che si andava nella direzione del piano di risanamento che in qualche modo è ora oggetto di rivisitazione da parte delle sezioni giunite tenuto conto che abbiamo ovviamente fatto ricorso sulla deliberazione di Diego. Il rendiconto che abbiamo approvato in giunta e che verrà proposto la settimana prossima in Consiglio Comunale ci dice che cosa? Ci dice innanzitutto che non solo siamo in linea col piano, addirittura siamo in anticipo rispetto al piano e le porto un paio di esempi. Abbiamo recuperato, avevamo previsto nel piano un recupero sul primo anno del piano di 31 milioni e un'appostazione di un fondo svalutazione crediti pari a 32 milioni. Ebbene noi con il rendiconto 2013 recuperiamo ben 150 milioni invece di 32 e appostiamo un fondo svalutazione crediti pari a 113 milioni rispetto ai 32 milioni. Quindi un'operazione importantissima e in linea con quello che era il nostro piano. Se andiamo a guardare le singole voci all'interno del nostro rendiconto, noi prevedevamo per esempio, porto un esempio, una riduzione delle spese per il personale interno dipendente e ci eravamo attestati solo sul valore dei salari e degli stipendi a 207 milioni, noi abbiamo registrato nel rendiconto una riduzione a 205 milioni. Quindi solo sulle retribuzioni abbiamo un ulteriore miglioramento di 2 milioni. Se andiamo poi a declinare tutte le altre voci, contributi, IRAP e quant'altro, la riduzione maggiore rispetto all'obiettivo del piano è di pari a 6 milioni. E questo guardando il comparto del personale del comune. Se andiamo a guardare poi le nostre partecipate, siamo andati a verificare che abbiamo tutti i costi intermedi, quindi tutte le voci di servizi che sopportano ovviamente le nostre partecipate, sono in netta diminuzione rispetto al passato. Ciò significa una forte azione di efficientamento all'interno delle partecipate. Quindi tutte quelle azioni che avevamo immaginato all'interno del piano sono state non solo rispettate ma addirittura siamo in vantaggio forse di qualche anno.